Una partita interessante tra due squadre che attraversano un buon momento. La seconda e ultima trasferta siciliana dei Rosso-Blu metterà di fronte Biella ai Messinesi di Capodorlando. Pollone e compagni sono al settimo cielo. Le tre vittorie consecutive, dopo il filotto di dieci sconfitte che aveva aperto la stagione, hanno ringalluzzito la giovane creatura di coach Zanchi. Se le vittorie contro Orzinuovi e Mantua non hanno stupito particolarmente, perché raccolte contro due squadre alla totale deriva di risultati e prestazione, il colpo grosso contro Udine di domenica scorsa è stato giustamente celebrato come un'impresa. Certamente i friulani ci hanno messo del loro per agevolare il successo di Biella, aggiungendo una difesa vacanziera all'irreale percentuale al tiro dei Rosso-Blu. Contano solo i due punti alla fine, che diventano quattro di vantaggio sul fanellino di coda Orzinuovi, mentre sempre due separano Biella dalla terz'ultima, Milano. Capodorlando invece, grazie alle ultime due vittorie consecutive, si è portata sopra la linea di galleggiamento. Prima di misura contro la valida Sigico Piacenza e grazie a un buzzer-beater da 8 metri di Vecerina. Poi una vittoria larghissima di 19 punti sull'Urania. Ciò non toglie che i siciliani siano ancora pienamente coinvolti nella lotta salvezza. All'andata al forum, Capo fece il colpaccio. Si tratta di una valida squadra. La coppia americana, formata da King e Mac, e non stiamo parlando di fast food, non garantisce continuità, ma in giornata buona potrebbe essere devastante. La vera forza di coach Marco Cardani è il nucleo di giovani e validissimi talenti. Matteo Laganà, fratello dell'ex biellese Marco, tiratore straordinario. L'atletismo di Vecerina, Scuola Milano. La tecnica del suddito della regina Queen Ellis, prodotto del vivaio sul quale capo ha scommesso forte. Per non parlare di poser e reggiani ben monitorati da squadre di serie A. Ciliegina sulla torta, i centimetri di Diouf, lunghissimo pivot, magari non troppo tecnico, ma che all'andata fece il bello e il cattivo tempo nell'area biellese. Palla 2 alle 17. Una vittoria varrebbe forse anche di più rispetto a quella conquistata sulla pelle della capolista Udine.